tifosi bianco celesti ben ritrovati con entella time il notiziario per non perdersi nulla di tutto ciò che accade nel mondo entella giovedì di lavoro per i bianco celesti questo pomeriggio seduta a porte aperte pomeridiana per i ragazzi di mister gallo che si stanno avvicinando ormai a grandi passi verso il prossimo appuntamento di campionato ricordiamo che l'entella giocherà domenica alle 14 a fermo contro la fermana i biglietti saranno in vendita sino alle 19 di sabato sul sito vivaticket.com e nelle ricevitorie autorizzate giornata questa è importante per l'entella siamo abituati ad ammirarlo per il suo spirito di appartenenza la sua voglia di lottare su ogni pallone parliamo del capitano luca parodi oggi però lo vogliamo festeggiare per un altro traguardo importante conseguito fuori al campo parodi si è infatti laureato in economia e commercio sul sito internet entella.it trovate l'intervista testuale al capitano bianco celeste ci avviciniamo alla partita però con le parole di un altro calciatore fondamentale nello scacchiere di mister fabio gallo parliamo di davide peterman primo anno in liguria un gol in campionato sin qui andiamo a sentire un estratto delle sue dichiarazioni beh c'è sicuramente tanto tanto entusiasmo anche perché insomma la vittoria mancava forse da troppo tempo due vittorie importantissime credo anche meritate per quello che si è visto nell'arco dei 90 minuti dobbiamo sicuramente crescere sotto l'aspetto della continuità della partita insomma fare 90 minuti ad alta intensità però insomma sì due vittorie molto importanti adesso arriva questa questa terza partita e vogliamo andare a fare anche la prima vittoria in trasferta per riprendere la strada che su cui dobbiamo puntare beh sì sicuramente anche perché insomma una vittoria in trasferta ci serve ci serve per dare continuità al lavoro settimanale ci serve per per trovare quella continuità che che ci è mancata ci serve per per tanti aspetti e sicuramente ci serve perché vogliamo essere protagonisti in questo campionato quindi dobbiamo continuare su questa strada l'intervista completa a davide peterman sul canale youtube entella tube e sulla pagina facebook virtus entella domani andremo a scoprire nel dettaglio tutti quelli che saranno gli appuntamenti alla fine settimana del settore giovanile l'appuntamento quindi per domani con entella time puntuale all'ora 19